Grazie a Don Vincenzo, a Don Riccardo, a Don Giacomo e adesso anche a Don Giuseppe che è arrivato qua tra voi. Grazie per chi mi ha sostenuto in questo cammino e continuerà ancora a farlo. Grazie a chi anche nel silenzio si è prodigato per farmi avere le cose pubbite ogni volta. E grazie semplicemente perché camminare insieme è la cosa più bella che il Signore vuole. E vedere la Chiesa così cremita dopo tanto tempo ci fa ricordare che questo è un luogo dove dobbiamo attingere costantemente nella sua educazione di qualche evento, ma il Signore è sempre pronto ad aspettarci. Grazie a voi, buon cammino. Io adesso sono stato destinato nella parrocchia di San Leonardo a Pallanza, però ci vedremo sicuramente. E poi se il Vescovo e il Signore vorranno a giugno sarò ordinato prescitero e vi attendo tutti. Buona festa!